Pace e bene a tutti, benvenuti anche oggi 16 febbraio qui con il nostro appuntamento con la Santità e siamo con Suor Cristiana Fabri oggi, benvenuta Suor Cristiana. Grazie, buongiorno a tutti, pace e bene a tutti. E Suor Cristiana è missionaria della Consolata e proprio oggi infatti quindi stiamo ricordando il Beato Giuseppe Allamano, proprio beatificato, proclamato Beato da Giovanni Paolo II nel 1990. Giuseppe nasce a Castelnuovo d'Asti nel 1851, fu studente di Don Bosco e aveva come zio materno San Giuseppe Caffasso. Ordinato sacerdote a Torino all'età di 22 anni, divenne rettore del santuario più caro ai torinesi, la Consolata, e del convitto ecclesiastico per i neosacerdoti. Al suo arrivo però sia il santuario che il convitto erano in crisi, ma Giuseppe, con fatica, li rivitalizzò, divenendo formatore di dottrina e vita. Dal suo seminario uscirono ragazzi desiderosi di diventare missionari, ma Giuseppe subì ostacoli dalla diocesi. Non si perse d'animo. Sarà lui a fondare l'Istituto dei Missionari della Consolata nel 1901. L'anno dopo partirà per la prima spedizione nel Kenya e otto anni dopo nasceranno le suore missionarie della Consolata. Al Papa Pio X denunciò l'insensibilità della gerarchia ecclesiastica nei confronti delle missioni e gli propose di istituire una giornata missionaria annuale con obbligo di una predicazione intorno al dovere e ai modi di propagare la fede. Nella visione di Don Giuseppe l'intera chiesa era chiamata l'evangelizzazione. Don Giuseppe sembrò più uomo di azione che di preghiera. Uno dei suoi motti era fare bene il bene. In realtà egli mirava alla diffusione del Vangelo e alla promozione umana. Ma Pio X morì e la proposta sembrò sfumare. Con l'elezione di Papa Pio XI il sogno di Giuseppe finalmente si realizzò perché il Papa istituì nel 1927, un anno dopo la morte di Allamano, la giornata missionaria mondiale. Allamano morì a Torino il 16 febbraio del 1926. La sua salma è venerata nella casa madre dei missionari della Consolata a Torino. Venne beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 7 ottobre del 1990. Sor Cristiana, come questa figura di santità ha conquistato la tua vita? Come ti ha trasformata e ti ha reso una missionaria? La vita me l'ha conquistata perché il fondatore è stata una persona molto grande. È stato un sacerdote della Diocesi di Torino che ha allargato i suoi orizzonti, i suoi spazi ed è arrivato al mondo, a tutto il mondo e tutti i continenti. E quello ha toccato il mio cuore di questa capacità e questa disponibilità di apertura al nuovo, al diverso, che apre i cammini nuovi, che apre spazi nuovi. Lui è stato un sacerdote diocesano, non è mai uscito dalla Diocesi, però è sempre stato un po' questo cuore palpitante per l'altro, per la persona, da salvare e da amare, annunciando a ciascuno la consolazione che è Gesù. Ecco, lui era particolarmente esigente anche in questo annuncio, perché non diceva che bisognava essere semplicemente missionari, aveva una scala di priorità, diceva prima santi e poi missionari, giusto? Esattamente, prima santi e missionari, lo riportiamo, troviamo, nelle immagini non si vedono, ma qui siamo nella tomba del fondatore e dietro c'è proprio questa scritta, prima santi e poi missionari, perché la santità è la dimensione principale, questa unione con Dio e con Maria. Lui è stato tantissimi anni rettore della consolata, del santuario della consolata di Torino, per 46 anni è stato rettore e da lì ha palpitato e ha vissuto questa tenerezza e questa consolazione, questa intimità con Maria e con Gesù. Erano i suoi due amori che ci ha trasmessi e ci ha trasmesso questa santità da vivere nell'ordinario. Lui ci voleva straordinari nell'ordinario, per cui cerchiamo ogni giorno di chiedere a lui questo spirito di discernimento e di capacità di vivere il nostro quotidiano con straordinarietà e con santità. E proprio questo sottolineiamo proprio con le sue parole. Lui diceva, ecco o miei cari, la santità che io vorrei da voi non miracoli, ma far tutto bene. Certa gente dice, cerca sempre le cose grandi, straordinarie. Non è questo cercare Dio, perché Egli è tanto nelle cose grandi come nelle cose piccole. Perciò bisogna stare attenti a fare tutto bene. È un impegno importante anche nella quotidianità, quello di fare poi ogni singola cosa in maniera più perfetta che nelle nostre capacità, giusto? Certamente, è quello l'impegno più grande anche perché lui diceva il bene, lo ha fatto bene e senza rumore. Quindi nella semplicità della nostra vita, nella quotidianità, le piccole cose, dalla cosa più insignificante alla cosa più grande che può essere l'annuncio, che può essere il donare la vita per i fratelli. Però il tutto l'ha fatto con questa intensità di amore, con questa intensità di carità, con questa intensità di pensare che Dio vive nell'altro e vive in me. E mi rende grande, e questo mi rende grande. E il bene lo devo fare per lui e in lui. Ecco, il Beato Giuseppe era anche molto attento alle parole, perché per esempio parlando di voi non usa congregazione, non usa istituto, bensì dice che siete una famiglia di persone, sacerdoti e laici che si impegnano a portare il Vangelo del mondo, ma anzitutto non una organizzazione, un istituto, un collegio, bensì una famiglia. Ecco, tu hai sperimentato questo tra le tue missionarie, insomma, siete riusciti a concretizzare questa grande ispirazione del vostro fondatore? Sì, certamente sì, perché lo spirito di famiglia è quello che ci guida, è quello che ci sostiene nella vita missionaria e nelle difficoltà della missione. Siamo proprio questa famiglia fondata da lui, il Beato Giuseppe alla mano, prima ha fondato i missionari della Consolata nel 1901, poi ha fondato noi come suore missionario della Consolata nel 1910. Però insieme a noi ci sono tutti i nostri laici, tutti i nostri confratelli, tutti i nostri consorelle e tutte le persone che in un modo o nell'altro lavorano con noi e fanno del bene con noi e per noi insieme a noi. E questo è lo spirito di comunione, lo spirito di corpo che ci unisce e dove non c'è uno più importante e uno meno importante, ma questa unità nella carità che ci rende veramente famiglia. E lui diceva che una sorella di religione è molto più grande di una sorella di sangue. E questo molte volte l'abbiamo sentito e lo sperimentiamo, no? Questo amore fraterno che ci conduce, questa carità che anche è di esempio, che nella diversità si può costruire l'unità. Ecco, Sor Cristiana, abbiamo parlato della Consolata che fa parte anche della vostra denominazione. Facciamo riferimento quindi alla Chiesa di Santa Maria della Consolazione, notissimo Santuario Mariano lì a Torino. E proprio Maria è la vostra ispiratrice che voi appunto venerate con il nome di Consolata. Ecco, nel mondo c'è bisogno di consolazione, come la portate anche in tutti i paesi, quelli più lontani? La consolazione c'è bisogno dappertutto perché veramente la consolazione e la consolata arriva nella nullità, nel cuore di ogni persona che vuole essere ascoltato, vuole essere accolto, vuole essere ricevuto da ciascuno di noi con questo spirito di amore e di tenerezza che aveva Maria nei confronti del suo figlio e di tutta l'umanità. Quindi consolazione veramente è riempire i vuoti esistenziali di ogni persona perché ciascuno possa riacquistare e riavere la dignità di figli e di figli di Dio. Questa è la vera consolazione in cui siamo chiamate ad annunciare, ma non solamente con le parole, con la vita, fino a dare la vita, fino al dono della vita. Ecco, fino al dono della vita può aprire anche una pagina di profondità perché le terre di missione sono complicate, a volte è difficile entrare nel tessuto sociale e si trovano resistenze anche molto forti. E anche lì è vero che si gioca la vita e qualche consorella ha dovuto poi dare questo sacrificio effettivamente. Sì, ricordiamo la nostra sua leonella che è stata uccisa in terra somala e lei ha risposto con tre parole, perdono, perdono, perdono. Veramente è l'espressione più grande dell'amore di un popolo, dell'amore di Dio prima di tutto, perché la vita la si può donare solamente se si ama e se si è incarnata in questa personalità di Gesù che vive in me, che è il figlio missionario del Padre in me. Quindi, sua leonella è per noi un esempio di vita, di donazione fino al sangue, un sangue che non è perso ma è per la vita dell'umanità e per la vita anche della congregazione stessa. Ecco, Sor Cristiana, forse non ti sarai resa conto, ma quando hai raccontato questa vicenda in realtà molto triste, sul tuo volto non si è letta alcuna tristezza e anzi si è letta una speranza profonda e anche una sorta di consapevolezza che questa sorella ha raggiunto un culmine di santità nella sua vita molto molto profondo. E forse questo è anche il cuore di voi missionari e missionarie della Consolata. Certamente, questo è quello che palpita in ciascuno di noi, la gioia dell'appartenenza, la gioia nel dolore dell'aver perso una sorella, dell'aver perso qualcuno che ha camminato con noi e che cammina con noi, però sicuramente nella speranza della vita nuova e della vita che germoglia attraverso il suo sangue, attraverso la sua offerta. È proprio come ha fatto Gesù che ha donato la vita per l'umanità. Grazie di cuore, Sor Cristiana, per la tua presenza qui e per la tua profondissima testimonianza. Grazie a voi per l'invito e la prossima volta possiamo anche incontrarci con altre esperienze. Una benedizione di Dio su ciascuni di voi e su tutte le famiglie che ci stanno accompagnando e che questa consolazione di Maria abiti nel cuore di ogni persona e nel cuore di ogni famiglia. Grazie dell'invito e della partecipazione che ci avete dato. Grazie proprio con questa preghiera che appunto la consolazione possa toccare i nostri cuori. Noi vogliamo invocare l'intercessione del Beato Giuseppe chiedendo e pregando. Beato Giuseppe prega per noi. Prega per noi.